Classifica interlocutoria, quella del Sant'Anna Enna che allo stadio greca di Pergusa riceve l'Aragona in vetta, al girone insieme a Niscemi e Serra di Falco. I rosso-blu che fin qui hanno ottenuto 8 punti con una vittoria si avvicinerebbero alla zona play-off ma un risultato negativo caccierebbe i ragazzi di Mister Orlando nelle retrovie del campionato di prima categoria. Scorgiamo l'undicennese che schiera Patrinicola in porta, Bonanno, Dottore, Legnano, Imbrosiano, Di Stefano, Polito, Francesco, Riccobene, Simone, Riccobene, Richiusa, Emmenso, a disposizione Matraxia, Maesano, Frazzetto, Agonzino, Campione, Guagenti e Tricarichi, arbitra la partita del signore Sandro Antonio Arena, sezione di Catania. Inizia il film del primo tempo al terzo, occasione Aragona dalla distanza, Iatta termina sul fondo la sua scienza, 17esimo, palla in profondità di Polito, Perriccobene che calce manda in rete e il gol che vale l'1-0, il Sant'Anna sblocca così il risultato. La Ragona prova a reagire al minuto 21, c'è un calcio di punizione, Iatta la batte e serve così Biancola, destro potente, pallone alto oltre la traversa al 39esimo. La punizione ce l'ha invece il Sant'Anna con Polito respinta dai punti dell'estremo difensore, la Ragona chiude in avanti la prima frazione, Biancola per Bellomo, atterrato così da Richiusa secondo il direttore di gara. Vale un calcio di rigore, Zammitto dal dischetto non sbaglia, gonfia l'incrocio a incrociare e il gol che vale l'1-1, ancora il 47esimo Zammitto che va a vincere un rimpallo. Prova ancora una conclusione, una sassata imparabile il portiere, resta a guardare, doppietta di Zammitto nel giro di due minuti e la Ragona è avanti, ha ribaltato il Sant'Anna Enna, inizia la ripresa, subito la Ragona, Zammitto respinge Padre Nicola sulla sfera, ancora Zammitto la mette dentro su Bellomo di testa, mette sul fondo doppia espulsione. Quando siamo al 58esimo entrambe le formazioni infatti restano in 10 uomini, il Sant'Anna prova a riaprire la partita, Polito da sinistra sempre molto sgusciante, la mette dentro, non riesce Di Stefano da buona posizione a battere Palumbo. Poi la punizione di Riccobene al 70esimo, trova lo stesso Palumbo bravo a volare e a sventarla in calcio d'angolo, al minuto 70 però Zammitto in azione personale, prende l'area di rigore, cerca un Mancino in due tempi, Padre Nicola, 81esimo, Zammitto parte a destra, riesce a passare sul primo avversario, ancora Zammitto se la porta sul Mancino e poi con la puntina sul primo palo dove non c'è nemmeno lo spazio, riesce a trovarlo, fa 3 a 1 e fa tripletta ma la sua giornata di grazia si conclude al minuto 83 la ripartenza dell'Aragona, trova Iatta, trova lo stesso Zammitto che fa poker personale e cala il gol del definitivo 4 a 1, finisce così infatti a Pergusail Sant'Anna e Nacade contro la capolista Aragona che passa 4 a 1 nel segno di un grande Zammitto autore di un poker personale.